buongiorno a tutti io saluto a tutti che ha scritto nella nostra canale anche ospite nostro canale oggi io voglio presentare nuovo motivo molto semplicissimo questa motiva rilievo si può usare cardigan maglione e anche si può fare copertine e anche con bambini questa questa motiva adesso faccio vedere parte di rovescio è tanto uguale con con questa questa motiva perciò capertine voi potete fare tranquillamente perciò si può dire cosa questa motiva fa come due parti questa parte di di rovescio voi vedete questa parte di diritto guardate allora sì ma questa questa motiva sei male e 10 giri 10 giri questa compresa parte di rovescio quando noi facciamo giro part numero 10 questa parte di rovescio noi subito passiamo nel giro numero uno e adesso cominciamo ragazze questa schema come io ho detto sei male schema e nove giri però io ho detto giro anche 10 perché noi passiamo parte di rovescio a quarto giro parte di rovescio questo è già giro numero 10 e giro numero 10 subito cominciamo dal giro numero uno qui maglie solo diritti e rovescio e non c'è altre ragazze perciò cominciamo come io ho detto nostra schema sei male guardate uno due tre quattro cinque sei io ho messo lucchetto per vedere per vedere quanti schemi una seconda terza quarta ragazze io dico sincero c'è perciò io non ce l'ho timidità io non professionale perciò come qualcuno dice io posso fare anche con occhi chiuse no io non riesco a fare chiuse perciò è molto spesso io metto queste come marche come voi chiamate io mettiamo lucchetto io metto senz'altro io non sbaglio cominciamo giro numero uno come voi avete visto il nostro sistema prime tre va diritti uno due tre e tre rovescio uno due tre questo primo giro ripetiamo tre diritti un diritto secondo diritto terza diritto tre rovescio questo giro numero uno giro numero uno giro numero due ragazzi voi fate senza di me perché dove diritti diritti dove rovescio fate rovescio perciò nostra schema e cambiamenti di giri movimenti mali io tendeva solo dalla parte di diritto parte di retro come guardano nostre nostre mali ecco abbiamo finito giro numero uno giro parte di rovescio voi fate da sole come guardano male come qui rovescio dalla parte di rovescio loro diritti ci vediamo nel giro numero 3 giro numero 3 un rovescio tre diritti uno due tre due rovescio un rovescio seconda rovescio questo nostro schema sei mali ripetiamo un rovescio un rovescio tre diritti uno due tre due rovescio un rovescio secondo rovescio continuiamo un rovescio tre diritti uno due tre due rovescio un rovescio secondo rovescio e l'ultima nostra un rovescio un rovescio secondo rovescio secondo rovescio abbiamo fatto giro numero 3 giro numero 4 fate da sole e ci vediamo giro numero 5 giro numero 5 cinque due rovescio due rovescio un rovescio secondo rovescio come voi vedete nostra motiva già comincia a spostare tre diritti un diritto secondo diritto terzo diritto un rovescio questo nostro schema ripetiamo due rovescio un rovescio secondo rovescio un rovescio secondo rovescio secondo rovescio tre diritto un rovescio funzioniamo due rovescio tre diritto uno due rovescio uno due rovescio un rovescio uno due tre rovescio abbiamo finito tre rovescio abbiamo finito ci vediamo nel giro numero 7 perché giro numero 6 voi fate senza di me giro numero sette queste nostre sei mali allora giro numero sette tre rovescio un rovescio secondo rovescio terza rovescio 3 diritti 1 2 3 spostiamo lucchetto tre rovescio un rovescio secondo rovescio terza rovescio 3 diritti 1 2 3 ripetiamo tre rovescio un rovescio secondo rovescio terza rovescio 3 diritti 1 2 3 diritti spostiamo al nostro lucchetto e facciamo l'ultima nostra schema 3 rovescio 3 rovescio 3 diritti 1 2 3 abbiamo fatto il nostro schema giro numero 8 fate senza di me ci vediamo nel giro numero 9 l'ultimo giro giro numero 9 allora giro numero 9 due diritti un diritto secondo diritto tre rovescio un rovescio secondo rovescio terza rovescio un diritto questa schema sei nostre maglie ripetiamo queste questo movimento di questo giro con altre schermo con altre schemi ripetiamo due diritti un diritto secondo diritto 3 rovescio un rovescio secondo rovescio terza rovescio diritto spostiamo lucchetto e facciamo lo stesso cosa con altre nostro schema due diritti un diritto secondo diritto 3 rovescio un rovescio secondo rovescio terza rovescio un diritto spostiamo lucchetto cominciamo di nuovo nostra schema due diritti un diritto secondo diritto tre rovescio 1 2 3 e diritto ecco abbiamo finito nostro schema adesso questa mia l'ultima mia un bordino non mica centro con nostro amativo adesso voi vedete questa parte noi abbiamo fatto insieme adesso facciamo giro numero 10 parte di rovescio come guardano nostre maglie è tutto ragazzi abbiamo abbiamo finito questo è l'ultima giro questa noi abbiamo fatto insieme con voi guardate qui non c'è niente complicato come voi voi adesso avete fatto insieme con me qui sono diritti e rovescio e sempre va spostamento e per questa motiva tutti vanno con con questa maniera adesso guardiamo parte di rovescio guardate come voi guardate parte di rovescio è sempre quasi la stessa cosa guardate perciò copertine potete fare tranquillamente addirittura potete fare anche maglione io qualche volta io ho fatto due maglione per mio figlio perciò quando mattina deve andare a lavorare come metà sempre va bene con tutti due parti però voi sapete io sempre lavoro con sempre giro senza cucitura e sempre lavoro dall'alto e basso perciò e mia maniche davanti e senza cucitura perciò mio figlio può mettere come lui comodo per adesso è tutto ragazzi io auguro voi buon salute fortuna e buon lavoro grazie arrivederci